Musica Bastava proprio non commettere quell'errore e almeno l'argento ce l'avevamo in mano. Però veramente senza rammarico perché una medaglia olimpica è veramente una gioia indescrivibile, quindi va bene così. Musica Musica Mi avevo già pensato di smettere come ginnasta, di ritirarmi, anche perché ho 25 anni per una ginnasta. Insomma, sono vecchia e comunque è giusto dare spazio alle giovani e ai giovani talenti che stanno arrivando perché ci sono veramente ginnaste molto belle, dotate e brave, che si meritano il posto in squadra e che comunque è giusto che sia così. Pensavo di iniziare a studiare, volevo fare questo corso di fisioterapia e per un domani magari riuscire a rimanere nell'ambito sportivo e perché no seguire anche le ragazze sotto un altro punto di vista. Musica Emozioni indescrivibili, cioè bisogna essere, provarle per capire la sensazione. La nostra gioia è immensa, soprattutto vedere il suo sorriso su quel podio con quella medaglia è stata la cosa più bella che potevamo vedere. Da genitori è la cosa immensa. Poi io so che comunque nel suo cuore lei guardava noi e noi lo guardavamo lei e eravamo una cosa unica. Questa è stata la cosa più bella. Musica E' stata una bella sensazione sentire questo bel peso al collo. Musica 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 Musica